l'uomo. Sono 40 in tutta Italia, le scuole superiori ammesse al progetto Extreme Energy Event realizzato dal Centro Enrico Fermi di Roma in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra, due le strutture in Calabria che hanno aderito all'iniziativa, il liceo scientifico Scorza di Cosenza e l'Istituto Superiore Fermi di Catanzaro Lido dove è stato appunto presentato il progetto, il servizio di Pino Guglielmo. La scienza contemporanea su cui si fondano la civilizzazione e le conquiste del progresso costituisce la base degli apprendimenti scolastici rafforzati da metodologie sperimentali e da strumenti tecnologici di ultima generazione che creano modelli didattici innovativi ed aprono orizzonti e mete inaspettate. Su questo postulato si basa la proposta formativa educativa della scuola calabrese postmoderna che verrà testimoniata dall'Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi di Catanzaro Lido nel progetto Extreme Energy Events. È una sperimentazione molto importante e proprio per questo avevamo bisogno di creare le condizioni necessarie per garantire il successo dell'iniziativa. È importante perché? Perché al di là di quello che è l'aspetto della disciplina della fisica noi puntiamo anche al fatto di coniugare la sperimentazione con la didattica. Alle soglie del terzo millennio e nell'ottica del futuro scientifico che si gioca la partita della formazione scolastica ed è quella a cui tende la scuola calabrese. Risale già infatti all'aprile del 2009 la missione del liceo Fermi da parte del centro di via Panisperna a Roma presieduto dallo scienziato Antonino Zichichi come partner del progetto che prevede la dislocazione in alcune scuole sul territorio nazionale di rilevatori di muoni cosmici per lo studio della radiazione di fondo dell'universo. È una cosa che per noi rappresenta davvero un fiore all'occhiello sostanzialmente facciamo parte come piccolissimo ingranaggio di un progetto molto molto più grande di noi. Noi abbiamo ripeto costruito questi rivelatori al CERN di Ginevra insieme ai nostri studenti quindi questo è molto importante perché fondamentalmente sono gli studenti ad essere protagonisti in tal senso quindi anche una visione diversa della didattica oserei dire rispetto a quello che normalmente facciamo. Oltre all'istituto superiore Fermi di Catanzaro Lido a questo progetto scientifico è stato ammesso il liceo scorza di Cosenza.